Il dispositivo per il controllo della mente è quasi ultimato. Stewie, te l'ho già detto, niente giocattoli a tavola. Al diavolo, vecchio arterio! Mi boicotti il lavoro dal giorno in cui sono evaso da quel tuo rudere di utero! Oh, non fare il broncio, tesoro. Sai, quando sei nato, il dottore ha detto che eri il bambino più gioioso che avesse mai visto. E fido io! Quello era il giorno della mia vittoria, la realizzazione di un piano lungamente studiato per fuggire da quella tetra bastiglia con le ovaie. Ridammi il dispositivo, donna! Niente giocattoli, Stewie. Molto bene, allora stampati queste parole. Quando meno te l'aspetti, la mia vendetta sarà inesorabile. Oh cielo, sei stato licenziato? Fico, pa, affrantumi gli ingranaggi dal sistema. Come sai del dispositivo? So che non vi piacciono le melanzane, ma ho pensato di... In nome del cielo, si può sapere cos'è stato? E allora che c'è da guardare? È un sandwich al tonno. Un sandwich e basta. La vittoria è mia! Bene, bene, bene! Ci si incontra di nuovo! Stewie, ti avevo rimboccato le coperte un'ora fa. Non abbastanza strette a quanto pare. E ora, perfida arpia, metterò fine al tuo oppressivo regno di matriarcare tirannia! Potrai giocare con i tuoi giochi domani mattina, tesoro. Adesso è l'ora della nana. No! Mettimi subito giù un sacco di estrogeni per carni inglesi! Sogni d'oro, piccolino. E tu intervieni, bua castrato! No, no, non ho visto Peter per tutto il pomeriggio. Stavo dando lezioni di piano. Stewie, perché non vai a giocare nell'altra stanza? Perché non vai al diavolo? Bene, questa sera resterai senza dol... Salve, madre! Ehi, la! Ciao, tenerezza! Sai, madre, la vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. La tua vita comunque è più simile a una scatola di granate innescate! E ora io ti offro l'ultima possibilità di scamparla. O mi rendi il dispositivo per il controllo mentale, o ti sbriciolo. Oh, vuoi soltanto indietro il tuo giocattolo? Ok, ecco qua, tesoro. Sì, bene. La vittoria è mia! 24 mesi in prigione, eh? Inaccettabile, intollerabile. Io dipendo in tutto e per tutto da quelle due cariatidi per il mio sostentamento. Vediamo come la ferrea costituzione della giustizia americana riesce a rispondere al dispositivo. Quello è il suo bambino? Cosa? Ah, è, oh sì, quello è Stewie. Non posso separare un bimbo così piccolo da suo padre. È incostituzionale. Al diavolo, lei ha imparato la lezione, no? Sì. Allora è prosciolto. Oh, oh, può farmi ridare anche il lavoro? No. Sì? Ahah, è mai!